www.mesmerism.it Qua ha rotto gli argini, il montone. Oddio! Si sono slegate tutte le barche, nooo! Un po' che ha fatto la mia cucina. Immagino, uno e l'unico ciottero! Questo è il ponte dei veneziani di Meldola, una roba impressionante. Buonasera a tutti voi dalla TG1. Ancora non si riescono a definire pienamente i contorni del disastro che sta colpendo l'Emilia Romagna. L'eccezionale nubifragio ha fatto sondare tutti i fiumi della regione, intere aree, come avete visto, sono sott'acqua. Nove le vittime accertate, centinaia di persone salvate con gommoni ed elicotteri. Gli sfollati sono migliaia. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha telefonato al Governatore Bonaccini per esprimere vicinanza, solidarietà e cordoglio. La solidarietà arriva anche dalla Premier Meloni, che ha coordinato gli interventi e ringraziato i soccorritori. Il Governo ha preparato le misure che saranno varate nel Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Vedete, in questo momento collegati.